Il senatore Costantino Dell'Osso ha rispedito al mittente la proposta fatta dal PDL sulla composizione della nuova giunta comunale, relativa alla componente della lista più forza per Lucera, fatta proprio ieri sera da alcuni PDLini nostrani. La proposta in sintesi è questa. Al senatore Costantino Dell'Osso la presidenza del gruppo di valutazione dei dirigenti comunali più un assessore da riconoscere alla lista più forza per Lucera. Il nome dell'avvocato Pierino Di Carlo, circolato in questi giorni, era di gradimento alle altre forze politiche, per la carica di assessore comunale, si dice, alla pubblica istruzione. La risposta dell'ex parlamentare è stata netta e precisa. Alla lista più forza per Lucera va riconosciuto, in seno alla nascente giunta, un posto di prestigio, con un esponente di prestigio. In altre parole, la carica di vicesindaco alla persona di Costantino Dell'Osso, anche con una delega minore, pubblica istruzione. Ovviamente la presa di posizione del senatore scardina quanto con pazienza era stato costruito con l'avvalo di Franco Landella, neosegretario provinciale del PDL e di quasi tutte le componenti del PDL Lucerino. Già da questa mattina febbrili consultazioni si stanno svolgendo per evitare una nuova rottura delle trattative che avevano raggiunto un ottimo livello. Un po' di delusione, pare, sia stata espressa dal senatore nei confronti dei consiglieri Matteo Silvestre e Franco Petrucci, sostenitori in un primo momento di un suo rientro in maggioranza dopo la notizia che in giunta sarebbe rientrato Franco Ienco, indicato proprio dai due consiglieri. Sono tutti imparentati fra di loro. Sullo scacchiere della politica ci sono ancora diverse mosse da fare. Non si sa chi muoverà per primo e in che direzione.